Buonasera a tutti ragazzi e benvenuti in questo mini 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 vlog perché volevo solo informarvi che adesso gestisco molto di più il google plus in modo tale che oltre a mettere ovviamente video e tenere anche più aggiornato il canale metterò anche delle notizie qualche foto qualche commento qualche domanda che farò a voi e sarà molto più veloce come scambio quindi mi raccomando mi trovate sempre su youtube ovviamente io carico una volta al giorno sempre se youtube me lo permette che poi sta qui in idrofona non so perché farò lì non lo so e poi metterò anche qualcos'altro su google plus ma molte più cose che ovviamente io carico più o meno un video al giorno più o meno il mio standard è quello ovviamente se non ci sono problemi e in più metterò anche qualche commento qualche foto o qualsiasi altra cosa quindi ragazzi ci vediamo su google plus e anche ovviamente su youtube ciao a tutti